L'arte del XX secolo, appena concluso, sembra un territorio chiaro e totalmente esplorato, eppure può riservare ancora delle sorprese. Ho appena fatto una scoperta che mi ha lasciato stupito, ed è quella di un fondo vastissimo di un artista d'origine italiana, nato a Basilea e vissuto in Svizzera. Siamo ad Ascona, luogo magico, esoterico e iniziatico. Sotto le palme si cela la casa di Pericle. E qui inizia la scoperta. Trovo una apparente Madonna con bambino, che in verità è la Zia Calì. Quindi alla scoperta del mistero. Un mobile monetiere inglese dell'Ottocento, con dei cassetti pieni di reperti pittorici. E ovviamente un libro sopra che mi spiega quasi tutto. Trattasi di Luigi Pericle, che dal cognome potrebbe sembrare un signore italianissimo. Invece è nato durante la prima guerra mondiale a Basilea, ed è cresciuto come postler. Gli abitanti di Basilea sono degli svizzeri un po' particolari, in quanto per colpa del fiume e dell'incrocio dei territori, sono sempre in un punto di movimentazione delle culture del mondo intero. E così inizia l'indagine sul caso Luigi Pericle, davanti ad un suo quadro che mi commuove assai, perché riprende un oggetto che per la Svizzera è fondamentale, anche se gli svizzeri non lo sanno. Il triangolo di Paul Klee, che è il triangolo anche di Kandinsky, ed è il primo passo per uscire dalla tradizione figurativa nella dimensione della mente moderna. E anche il cerchietto fatto appunto ha il suo diritto ad esistere. Continuo con i segreti della cassettiera. Un piccolo oggetto perfettamente ordinato con tutti i parametri alla Klee, un altro dove lo stesso curioso Pericle si è divertito come un pazzo a muovere e commuovere la materia astratta. Che cos'è questa pizzeria? È la lettura indiana della cosmogonia e attraverso la lettura della cosmogonia la comprensione del mondo dell'individuo. Una delle normali riviste d'arte storica, Tu, che racconta la saga dei Steckelin, i famosi collezionisti di Basilea, quelli che contenevano in una casetta assolutamente modesta una collezione d'arte che sembrava più importante di quella del MoMA. E all'interno di questo numero, accanto a un bel hodler, accanto a dei Picasso iniziali, un Chagall storico e antico che più ebraico di così non si può, e infine il ritratto del signor Steckelin, in fondo uomo vero. Mi colpisce una cosa. È fatto da Luigi Pericle. Ho ritrovato le sue scatole di questo curioso Pericle, che, stando a Basilea, da ormai svizzero, tolera solo carte di altissima qualità e comincia a giocare nell'astrazione. Altre, che potrebbero anche essere viste come figurative, altre ancora totalmente espressioniste. Va ricordato che in quelli anni a Basilea girava un altro curioso individuo, che era Mark Tobi, un americano scappato dall'America perché l'Europa gli prometteva delle libertà psichiche che l'America non gli consentiva. L'America esigeva il successo, l'Europa permetteva di essere artisti anche se nessuno ti guardava. Era quello mondo di elite. Bastava per un artista quando voleva esistere avere un rapporto anche con pochissime persone, purché appartenenti a queste elite. Lo ebbe Tobi con l'Ernst Peiler, lo ebbe il nostro Pericle con gli Steckli. Peiler il grande gallerista, gli Steckli i grandi collezionisti. Sia Tobi che Pericle erano tutti e due affascinati dall'estremo oriente. Movimenti fluttuanti dall'aspetto giapponese, movimenti ritmici fatti di vermi ciatolini esattamente come quelli di Mark Tobi. Oppure segni schizzoidi e rapidi come quelli che negli stessi anni stava facendo Mathieu. Pericle riesce così a generare un rapporto di dialogo con tutte le sperimentazioni in corso all'ora nell'astrazione. Ne è qui un ottimo esempio. Da un lato un lavoro fatto su quella cosa che gli inglesi chiamano la texture, cioè la struttura portante dove la pittura esiste in quanto è sovrapposizione di elementi e talvolta riprende un'altra dimensione perché si gratta via da sopra per riscoprire ciò che c'è sotto. E dall'altro invece il gioco infinito delle trasparenze che in quegli anni lì colpiva tutti. Eccolo il pericle che passa dall'astrazione sgraffignata e grattata rupestre a rimaginare l'immaginario di allora che era quello di Marino Marini dei suoi cavalli con cavaliere. E a riprova di questa dichiarazione rieccolo in un'altra versione dove però tiene una lancia come se fosse Don Quixote. Questa volta con una pittura che è tutta lavata, slavata e colante. Sono gli anni nei quali a Lausanne nasce il Musée de l'Art Brut quello intorno a Dubuffet e a tutti i suoi amici. E guardate quanti rapporti ha questo gioco di segni liquidi, graffignati anche loro ma minimi, trasparenti con quello che è il mondo che allora si scopre attorno a Dubuffet. Lui con la testa rotonda e lei con la testa quadrata. Come Paul Klee diventa un esperto di ciò che noi chiamiamo oggi le petit format in versione pietra paesina o in versione ancora più curiosa. Come in questo caso dove sembra indovinare e anticipare le viscere d'un computer perché l'artista geniale è sempre in grado di anticipare i tempi. Grazie a tutti i nostri spettatori